Era un lavoro particolare, chi andava a fare il meccanico, chi l'elettricista, chi l'idraulico, però il tipografa era un lavoro un po' strano, un po' particolare che mi ha preso subito e con una stampa tipografica non è che si potesse fare le corse con il carattere che aveva a disposizione, filetti. Dovevi inventarti un lavoro perché loro ti davano un pezzo di carta scritto a mano e tu, se era un volantino, era qualsiasi altra cosa, una carta intestata, dovevi inventarti e dissiare una pianta. Stavi lì a cercare di abbinare i carattere perché in tipografia ci sono poche regole, quelle poche devono essere assolutamente ascoltate. Sono andato in pensione senza alcun rimpianto perché con la frenesia che c'è adesso sto bene in pensione.